Il servizio di posta elettronica offerto in convenzione prevede la fornitura di tre tipologie di caselle che differiscono tra loro per dimensione, funzionalità e tipologia di utente, basic, standard e advanced. Nel prezzo del servizio di posta elettronica sono inclusi i servizi di attivazione, migrazione e phase-out. Inoltre, sono inclusi i servizi di sicurezza, in particolare anti-spam, anti-virus, anti-phishing, anti-malware, anti-ransomware, backup-restore, oltre ai servizi di assistenza utente tramite contact center e health desk. Come si accede alla casella? Per tutti gli utenti, indipendentemente dalla tipologia di profilo, è possibile l'accesso sia con client di posta tradizionale che tramite webmail. È possibile attivare le caselle in autonomia. Ogni amministrazione, infatti, avrà a disposizione un'utenza postmaster che dà accesso ad un pannello di self-provisioning per la creazione e la gestione in autonomia delle caselle e delle funzionalità specifiche dei differenti profili. Vuoi saperne di più sui vantaggi della convenzione PEL? Vai al prossimo video!